Sono le 9.02, buongiorno, io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto qui dal Centro Sportivo Felice Ceravolo a Lagaccio, a Genova, per un appuntamento a cui veramente teniamo tanto. La terza edizione del Campionato Mondiale di Plogging è un'iniziativa che racconteremo in questa giornata in lungo e in largo. L'abbiamo anche annunciato nei giorni passati all'interno delle nostre trasmissioni. Di che cosa si tratta? Insomma, fare attività sportiva e anche, scusate la retorica, ma in questo caso è ben riposta la retorica, far bene anche al mondo perché insomma si ripulisce un pezzo di mondo. Ma per farci raccontare in maniera molto dettagliata l'iniziativa della terza edizione del World Blogging Championship io do il benvenuto a Roberto Cavallo qui con noi, direttore di gara. Ciao Roberto, buongiorno, benvenuto su Rebiet. Ciao Francesco, grazie, grazie a voi come sempre di RBI di essere al nostro fianco perché l'avete adottata dalla prima edizione, lo ricordavamo, in Valle Pellice 2021, le Valle Olimpiche Torino 2006, lo scorso anno con Villar Perosa capofila, capoluogo. E beh, siamo a Genova, è bello ritrovarvi qua, è bello ritrovare questa gente alle nostre spalle, 17 nazioni, quasi 100 atleti al via e ieri sera cerimonia di apertura stra-iper emozionante, questa sfilata delle bandiere, insomma ci siamo. Allora Roberto, intanto per chi in realtà non è molto avvezzo a questi temi, però insomma chi segue RBI sa benissimo insomma che anche le questioni legate ai cambiamenti climatici, anche prendersi cura del mondo è uno dei temi, è uno dei cardini, diciamo, del nostro lavoro quotidiano. Di che cosa stiamo parlando? Cosa vuol dire fare plugging e perché a un certo punto decidete di mettere in piedi addirittura un campionato mondiale di plugging? Beh, sì, allora, lo diamo forse un po' per scontato, plugging dallo svedese e inglese, ploka, app e jogging, cioè raccogli e corri, perché è importante? La prima ragione perché purtroppo, anche se non li vediamo, ci sono moltissimi rifiuti per terra, ci fanno impressione le discariche abusive, i grandi, ma c'è moltissima roba, lo abbiamo visto, ahinoi l'anno scorso, in Valchisone Germanasca, sono pulite e abbiamo raccolto 1152 chili, pensate. Il secondo è che quei rifiuti non stanno lì, intanto vengono trascinati al mare, le famose isole di plastica negli oceani sono formate dal 75% da rifiuti che arrivano da lontano dal mare, e quindi le piogge, il vento, le porte al mare, lì si concentrano e soprattutto si degradano, diventano quelle famose microplastiche che entrano nel circuito alimentare, nel circuito, e fanno male anche quelle grandi plastiche, soffocano le tartarughe, soffocano i cetacei, gli uccelli, quindi quello che dovrebbe essere un paradiso naturalistico diventa il loro inferno, non molti sanno che molti muoiono in realtà non solo per soffocamento, ma perché hanno lo stomaco pieno, pensano di non aver fame e muoiono di inedia, e quindi capite quanto bene fa togliere i rifiuti dall'ambiente, e non ultimo, beh ormai le microplastiche ce le abbiamo dentro di noi, sono nel sangue, sono nel latte materno, sono nella placenta, sono ovunque, quindi quello che facciamo è un gesto semplicissimo, si vede un oggetto per terra, lo si raccoglie, lo si mette in un sacchetto, lo si porta, in questo caso correndo all'arrivo, poi qua viene separato dai giudici e avviato la raccolta differenziata, ma una roba che possiamo fare tutti i giorni nel nostro quotidiano, andando a fare la spesa, portando i figli o i nipoti a scuola. Fa effetto tra l'altro pensare, dicevi, già soltanto del risultato dell'anno scorso, più di una tonnellata di rifiuti che in realtà poi invece sostanzialmente non vediamo ogni giorno, chissà quanti ce ne sono nelle nostre città, dovremmo essere dei blogger, diciamo tutti sostanzialmente, so che suona facile dirlo, però effettivamente a che punto dal tuo punto di vista c'è la consapevolezza di guardarsi intorno e di fare qualcosa? Sì, allora la sensibilità a mio avviso è aumentata in questi anni, resta molto da fare, anche lo facessimo tutti, tutti i giorni, abbiamo tutto ciò che è stato ai noi, anche per nonna, attenzione e preparazione culturale buttato negli anni e nei decenni scorsi, pensa che solo i ragazzi, perché qua il campionato mondiale in realtà è già iniziato ieri con una plug-in child, c'erano un sacco di bambini in questo campo alle nostre spalle e hanno fatto due plug-in session piccoline da 45 minuti, hanno raccolto la prima gruppo di ragazzi 27 kg, il secondo oltre 40, quindi in un attimo solo qui intorno che è, come vedi, non particolarmente sporco, più di mezzo quintale di rifiuti. Questo però per i ragazzi ha un significato importante, perché passare all'azione, fare un gesto ti rimane poi dentro e te lo ricordi e in qualche modo speriamo che serva, soprattutto a far sì che poi non buttino. Insomma, c'è anche molto da fare a chi progetta le cose, perché poi abbiamo delle robe in tasca che a volte potrebbero essere gestite diversamente. Non voglio rubarti ancora tempo, però insomma, che cosa significa preparare un campionato del mondo di questo tipo? Insomma, quanto tempo, quante persone dedicano il loro tempo a realizzare questa iniziativa che oggi vede il suo compimento qui a Genova all'Agaci? Beh, tante, siamo solo di staff, una ventina di persone, poi ci sono i volontari, gli scout, la Croce Rossa, le misericordie, voi che siete qua, insomma, c'è uno staff enorme. Quello che è utile forse dire agli ascoltatori è che queste sono le finali del campionato mondiale. Cioè, c'è stato un processo di qualificazione, qualificazione con delle gare che sono iniziate a marzo, dieci gare in tutto il mondo che hanno selezionato una cinquantina di finalisti e del Virtual Challenge. Ognuno di voi, anche in vista dell'anno prossimo, può in qualche modo correre a casa sua, raccogliere, fa la foto dei rifiuti che ha raccolto, fa lo screenshot della sua performance atletica, le carica su un account che si è creato in bloggingchallenge.com e acquisisce dei punti, un po' come si fa in tutte le cose ormai. Questi punti acquisiti vi fanno scalare la classifica e magari il prossimo anno... Scusate, c'è passato davanti uno in dialetta. Ma va bene così, oggi succederà di tutto, va benissimo. Insomma, potete qualificarvi, l'altra metà si è qualificata in questo modo. Questo consente anche, permettimi, di risparmiare delle emissioni, le gare non sono gare nuove. Noi ci gemelliamo con delle gare già esistenti, quindi meno viaggi, meno... E la Virtual Challenge significa che noi abbiamo persone da Tokyo, dal Messico, dall'Uruguay... Che si qualificano nei loro paesi di riferimento. Che si sono qualificati là. Quindi vuol dire portare il messaggio worldwide in tutto il mondo senza spostarli. Si spostano proprio solo per le finali, si sono qualificati. Quindi anche in questo punto di vista, questa manifestazione è un beneficio ambientale importante. La risposta del mondo. Perché, insomma, portare, immagino, insomma, il mondo a Genova, che cosa vuol dire? In due battute. Beh, vuol dire che intanto è l'unica gara al mondo che lascia un pezzo di mondo migliore di come l'ha trovato. E poi dal punto di vista anche sportivo è interessante perché è l'unica gara al mondo che quando arriveranno sotto quell'arco davanti a noi che voi non vedete, non sapranno se hanno vinto. Perché quando arrivano non sanno quanti rifiuti ha raccolto l'avversario o l'amico. Non sanno che percorso ha fatto perché è in un campo di gara ampio. E questo fa sì che, in realtà, come già hai visto qua, si sia creato molto gemellaggio, fratellanza internazionale al di là della performance. Che poi però in fondo ognuno di loro si porta in cuore perché la gara è sempre una gara. E allora, Roberto Cavallo, direttore di gara della terza edizione del campionato del mondo di plugging. Buona gara. Ovviamente, insomma, proveremo anche a strapparti, diciamo, ancora la gara durante la giornata. Io andrò sul campo, ci colleghiamo, tornerò qui. Assolutamente, quindi buona gara e grazie ancora per essere stato l'RBA. Grazie a voi. Un po' di musica e a tra poco.